Ragazzi siamo nel centro città perché tra poco dobbiamo prendere il treno con un mio amico e niente, oggi si ci diverte centro città assolutamente promosso, molto molto bello Sono le dieci e mezza siamo in stazione a Brignole e stiamo aspettando il mio amico meglio di così, si muore molto caratteristico è arrivato, lui lui ci accompagnerà in questo magico viaggio, anche lui è molto caratteristico stiamo perdendo il treno? è ufficiale che stiamo perdendo il treno però l'importante è vloggare, devo prendere il biglietto io io ho la mascherina, mi raccomando non tenete le mascherine come fa lui facciamo il biglietto non abbiamo timbrato i biglietti abbiamo timbrato un biglietto sono una persona felice quante scale madonna ho ancora il mio biglietto, magico biglietto e abbiamo un accompagnatore che ha fatto il biglietto per me e l'ha pagato con i miei soldi questo essere bravo oggi video bello il treno il prossimo è tra un'ora un piccione vlogghiamo il piccione un altro piccione due piccioni il mio piccione in questo caso lui è il figlio piccione non c'è Grazie a tutti. 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 Oh mio Dio. Male? No, non l'ho visto a video. L'ho visto. Sì, sì, l'ho visto. Grazie che mi fai fare visualizzazioni clickbait. Bravo, bravo. Sì, lo metto su YouTube assolutamente. Eh no, vado troppo in alto. Eh no, vado troppo in alto. Eh, giusto, perché non tieni i piedi sui pedali. Guarda, ti faccio... Tieni i piedi? Oh, vedi? Ora andavo meno, però... Alla... 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 E così la nostra avventura è finita. Peccato. Però guardate quanto è lussuoso questo treno con il portabiciclette che non cade e addirittura il coso per caricare le biciclette elettriche. Treno assolutamente approvato. Cosa ne pensi di sto treno? Ma da quanto sei alto? Per lì no. Molto bello? Sì, tanto non lo metti.